Sì, grazie Presidente. Con questa mozione ci riferiamo appunto al nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali che è stato approvato quest'anno e che all'articolo 17 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno ciascun concessionario compili e trasmetta la scheda di rilevamento statistico e alla lettera G che sempre entro il 30 settembre compili e trasmette il rendiconto dettagliato della gestione degli impianti. Sono degli obblighi informativi molto importanti che servono all'amministrazione innanzitutto ad avere contezza della consistenza della struttura impiantistica comunale ma anche in ottica comunicativa dare le informazioni ai cittadini che vogliano utilizzarle. Penso ad esempio al motore di ricerca per gli impianti sportivi comunali che abbiamo pubblicato sempre quest'anno e queste informazioni appunto sono necessarie proprio da questo punto di vista a promuovere le attività che vengono offerte tramite i nostri concessionari che nella maggior parte dei casi fortunatamente queste schede le compilano ma in alcuni casi no. fortunatamente il nuovo regolamento all'articolo 21 prevede delle sanzioni nel caso di omissioni di queste comunicazioni e quindi abbiamo la possibilità grazie al nuovo regolamento che è stato operato quest'anno di incentivare chi manca di queste comunicazioni a farlo e naturalmente l'obiettivo non è quello di andare a vessare i concessionari di richieste particolarmente onerose ecco si tratta di comunicare semplicemente quelli che sono gli iscritti ai corsi, quelli che sono i servizi offerti e un rendiconto appunto sulle attività che serve all'amministrazione di fatto per promuoverle le stesse attività infatti devo dire che ecco nella maggior parte dei casi i concessionari hanno risposto positivamente, anzi alcuni hanno anche ringraziato dell'attività che stiamo portando avanti perché ecco questa mozione è il frutto di una richiesta di accesso agli atti che ho effettuato in base alla quale appunto è emerso che non tutti, pochi per fortuna non hanno collaborato e chiediamo ecco da questo punto di vista il supporto da parte delle sindaca alla giunta per applicare il regolamento e far sì che tutti provvedano a comunicare all'amministrazione quelle che sono le informazioni importanti per il servizio sportivo offerto dai nostri impianti. Grazie.